Il tempo è lo stesso, perché si è partito un attimo dopo. Dai Massimo, dai non mulare, questa cagnolina qua, la si copieva a casa quando la senti mette il curare. Si ha mangiato la macchina, i salotti, tutto li ha mangiato. Ha migliorato, faceva un salto sta parola al campo. Spera che fa una gara, per me è anche bravo. Dai Massimo, dai. Si, Massimo doveva una saltina. Dai Massimo, che l'ha da merda, le sveglia fuori. Dai, dai dai dai. Dai Massimo, vai. Forza Massimo. Dai. Hai sentito il palo?